Spacciava Ascish nei vari comuni della Valtaro. Un cittadino ucraino di 23 anni è stato condannato a 9 mesi e 1.500 euro di multa dal Tribunale di Parma per una serie di episodi di spaccio avvenuti tra l'aprile e l'ottobre del 2018 nei comuni di Borgotaro, Bedoni e Fornovotaro. Il pubblico ministero Silvia Zanini aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi.